Sostanzialmente sono sbagliate le previsioni di crescita. Si prevede disoccupazione in aumento e occupazione in calo. Si quantifica l'impatto delle vecchie misure presenti in legge di bilancio e anche delle nuove, penso al decreto crescita, lo sblocca cantieri veramente minimali, ma si persiste nell'errore perché di fatto non si introducono nessuna misura prociclica, per esempio le cose che chiediamo oggi insieme a Cisle Will, cioè investimenti pubblici, nuove politiche industriali che possano far ripartire il Paese. Dalla flat tax al salario minimo orario, il momento di economia e di finanza parla anche di questo. Cosa ne pensate? Allora, sulla flat tax abbiamo detto quella è una misura che pregiudica il principio di progressività. Non parla a lavoratori pensionati. Noi chiediamo infatti di aumentare le detrazioni, chiediamo una seria lotta all'evasione, tra parentesi segnalo che anche da questo punto di vista si introduce, se abbiamo letto bene, il saldo estralcio, quindi una misura che non va nella direzione di contrastare l'evasione. Sul salario minimo orario c'è una discussione in corso, abbiamo detto, per quanto ci riguarda il salario minimo orario è quello definito nei contratti collettivi nazionali. Si deve ripartire da lì, chiediamo anche una legge sulla rappresentanza, proprio perché pensiamo che quelli siano i parametri di riferimento che possano tutelare i lavoratori. Ok?